E' l'uomo pipistrello, è Batman! Wabalabadabadab e bentornati su un mamma mazzo, bentornati in uno degli ultimi video dell'anno, come già anticipato nel video natalizio in cui vi ho mostrato un po' gli ultimi fumetti che ho letto, vorrei parlare con voi di Batman, le nuove avventure. Fondamentalmente che cos'è questo? Questo è un proseguo a fumetti della serie animata Batman The Animated Series del 1992, una delle serie animate più belle dell'era moderno, forse in assoluto, non lo dico io, lo dicono anche i premi che ha vinto e soprattutto lo dice anche il me adulto, perché una delle vittorie che ha un cartone animato a parer mio è che se lo riguardi da adulto non ti fa schifo, non ti fai neanche schifo tu e Batman The Animated Series regge benissimo il confronto tra il ricordo bambino e il rewatch da adulto. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che potrebbero fare una reaction e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo video e di questo fumetto che vi metto anche qua in descrizione così lo potete acquistare su Amazon contribuendo al mio canale senza nessuna spesa per voi, aprite sempre le mie descrizioni in modo che trovate sempre delle cosucce interessanti. Bando alle ciance, iniziamo. Ovviamente uno dei motivi per cui ho voluto parlare di questo fumetto non è il fatto che mi è piaciuto in maniera assoluta, altrimenti di che cosa parlo? Sono io che verso tutta la mia gioia per dieci minuti su un fumetto? No, in realtà proprio dalle prime pagine io ho un pochino storto il naso perché dalla prefazione iniziale che tra l'altro, prefazione iniziale di Davide Tessera che finisce appunto cantando le note della sigla di Cristina d'Avena per riportarci un po' a quel lontano 1992 per chi se l'è goduto su Italia 1 in prima visione. Nonostante questo, questo Batman, proprio nella prima pagina, non è il Batman di Batman The Animated Series ma è il Batman di Batman and Robin o Batman The New Adventures che sarebbe l'ipotetico proseguo, comunque in continuity con Batman The Animated Series. Tra l'altro questo proseguo faceva anche dei crossover con il cartone animato Superman, Superman le nuove avventure se non sbaglio, però la grafica è cambiata rispetto a Batman The Animated Series e a mio parere è cambiata in peggio, è peggiorata. Qua come lo scopriamo? Dal fatto che Bane ha questo aspetto. Il Bane di Batman The Animated Series, ve lo faccio vedere con i giocattoli. Questo è Bane di Batman The Animated Series e questo è Bane di Batman Le Nuove Avventure. Tra l'altro i giocattoli li hanno fatti di entrambe le serie, se non ricordo male, anche perché io cerco continuamente una Poison Ivy di Batman The Animated Series e trovo la Poison Ivy della nuova versione, quindi presumo le abbiano fatti. Niente, comunque viene introdotto questo tipo di disegno, lo vediamo anche da questo Bruce Wayne molto più giovane rispetto al Bruce Wayne di Batman The Animated Series e con gli occhi azzurri, questi gli occhi glaciali. Però ci può anche stare, lo capisco, perché fondamentalmente noi non abbiamo un crossover in Batman The Animated Series, lo abbiamo in Batman The New Adventures e quindi dal momento che qua introducono Lex Luthor, che poi è il Lex Luthor del cartone animato di Superman, ci sta che abbiano usato questi disegni. Però vabbè, anche la Batmobile è la Batmobile di Batman The New Adventures, non è la fantastica Batmobile di Batman The Animated Series, che fondamentalmente richiama molto di più quella dei film di Barton. Un'altra ragione per cui abbiamo usato questo stile di disegno è perché è importante che noi siamo, all'interno della storia, siamo nel momento in cui esiste Team Drake, in cui Dick Grayson è già Nightwing. Perché? Perché viene introdotto il personaggio di Red Hood, ovvero Jason Todd. E dal momento che nelle due serie, quindi né in The Animated Series, né in New Adventures è stato mai nominato Jason Todd, è un bel lavoro di retcon, nel senso che fondamentalmente ci mostrano un po' dal punto di vista di Team Drake come Batman abbia vissuto questa cosa e non ne voglia parlare. E quindi noi spettatori non siamo mai stati al corrente di questa cosa. Un escamotage furbino, giusto per non parlare in un cartone animato per bambini del 1992, che il secondo Robin è stato ucciso a sprangate dal Joker. Però, carino carino, devo dire che mi è piaciuto come hanno introdotto il tutto. L'altra cosa però che ho notato è che nonostante, appunto, c'è questo stile, questo stile non si mantiene perpetuo in tutti i numeri. Probabilmente questa è una raccolta, eh, sicuramente, di numeri, ma che comunque è in continuity. Dovrebbe essere fedele a se stessa. Ma mentre vediamo nella pagina 1, dove c'è appunto il Bane di New Adventures, vediamo un manifesto con il pinguino disegnato in questo modo, in un'altra scena vediamo un flashback di Batman, quindi ambientato nel passato, con lo stile del Batman di Animated Series, che, se ci pensate, è una cosa fighissima, che il flashback richiami i vecchi disegni. Peccato che il pinguino non cambia semplicemente d'aspetto tra una serie e l'altra, ma cambia delle cose che sono fondamentali. Banalmente il pinguino ha le mani palmate, perché richiama il pinguino di Danny DeVito di Tim Burton, mentre il pinguino di The New Adventure è un normalissimo ometto con il naso a punta, che richiama un po' il pinguino della serie del 1966 di Batman, quella con Adam West. Diverso è per lo spaventapasseri, di cui invece sono stato molto molto felice che abbiano usato la sua seconda incarnazione, cioè quella di The Animated Series, la seconda versione, quella dove ha i capelli fatti di paglia, per intendersi. Mentre nella storia in appendice, che è una storia natalizia con protagonista Harley Quinn, vediamo che c'è lo spaventapasseri, quello che sembra vestito come se fosse la morte, con la falce, il cappuccio. Non la mia versione preferita dello spaventapasseri, proprio perché non ha un design caratteristico, ricorda più una generica morte che non uno spaventapasseri. Ecco, nella storia di Harley Quinn in solitaria, diciamo, vediamo Kite Man, vediamo i vari protagonisti anche della serie animata Harley Quinn, che sta andando in questi anni, ed è fantastica, recuperatela, lo dico ogni video. vediamo Kite Man, che è l'ex marito di Poison Ivy, e vediamo King Shark, proprio come è stato disegnato in quel cartone animato. Lo scopo è anche quello di introdurre personaggi nuovi per questa continuity, ma che sono ben consolidati nel fumetto, nei videogame, eccetera, però ci mostrano anche personaggi che abbiamo già visto anche nelle serie animate. Tra i personaggi nuovi per questa continuity c'è Firefly, abbiamo Azrael, che ha questo aspetto un po' stranamente arancione, che poi presto verrà cambiato nel costume che indosserà quando prenderà il posto di Batman, quindi hanno un pochino invertito le due cose. C'è questo personaggio che dopo aver tolto i panni del Cavaliere Oscuro, fatto in questo modo, indossa i panni di Azrael, no, vuoi anche prima se non sbaglio, non mi ricordo, qua invece c'è, indossa questo costume con le orecchie, diciamo, di Batman, proprio per far vedere che è un alleato, quindi è un escamotaggio un po' meno furbino, per mostrare i due look del personaggio. Viene introdotto Deathstroke all'inizio, in una trama in cui si mostra un alleato, ed è molto interessato a Team Drake e a Batgirl, forse un po' anche per richiamare il fatto che Deathstroke sarà poi la nemesi dei Teen Titan. Viene mostrato l'uomo d'argilla, c'è anche una leggera citazione a quando crea una parte della sua argilla, si stacca e prende vita, hanno citato un po' quella storia, ma non troppo, l'hanno solo citata graficamente. C'è anche Catwoman che ha questo look che ricorda molto la Catwoman del film, tutta in nero, ma dove ha una maschera, cui non si vedono le pupille e dove il volto è davvero molto emaciato, molto pallido. Non è la mia Catwoman preferita, avrei preferito anche qui la Catwoman, quella che richiamava un pochino la Selina Kyle di Batman 2. Abbiamo anche Mr. Freeze con il look di Batman The New Adventure, che vi ricordo in teoria dovrebbe essere solo una testa senza il corpo. E Dulcis in fundo mi sono tenuto il meglio per la fine, ovviamente ho detto si parla della storia, della genesi di Red Hood, quindi non si può non tirare in ballo il Joker. Il Joker fortunatamente non è stato assolutamente disegnato come nella versione Batman The New Adventure, che è orrenda, ma è stato disegnato in questa versione, che è fondamentalmente una via di mezzo tra la prima e la seconda versione, e che si ispira al Joker che hanno mostrato in un film animato successivo a Batman The New Adventures. Ora non ricordo quale sia il titolo, perdonatemi, però è chiaramente quella l'ispirazione grafica, infatti ha gli occhi gialli esattamente come nella prima versione, però ha la camicia verde e non arancione come nella prima versione, però quantomeno non ha queste pupille invertite con gli occhi neri e la pupilla bianca, che davvero sono orrende, e ha un accenno appunto di labbra rosse esattamente come nella prima versione, e non come quella in The New Adventures, dove però anche qua c'è un'apparizione del Joker in quella versione all'inizio, ed è un'altra cosa che dici, ma non ha senso che lo stesso personaggio sia disegnato in due maniere diverse senza un motivo. Posso capire i flashback, ma fondamentalmente le pupille di una persona, le mani di una persona dovrebbero rimanere quelle. Ma tornando appunto al discorso Red Hood, hanno cambiato leggermente il motivo per cui Jason Todd era morto, poi non era morto, hanno cambiato anche proprio le sue origini, il Red Hood non è legato al fatto che fosse il Joker, ma hanno mostrato una banda dove appunto Red Hood era il capro espiatorio, nonostante non abbiano mai citato che anche Joker facesse parte di quella banda come capro espiatorio, questo perché in Batman The Animated Series le origini del Joker non corrispondono al chimico fallito che è stato coinvolto nella banda di Red Hood ed è caduto nell'acido, è caduto sì nell'acido, ma era già un gangster al soldo, non so se di Maroni o di qualche altro boss, ah sì, Salvatore Balestra, e questa cosa l'abbiamo vista nel film animato Batman, la maschera del fantasma, che è sempre in continuity con questo cartone animato. Hanno cambiato leggermente l'origine di Red Hood. Sempre riguardo appunto a Red Hood, il fatto stesso che il Robin di Tim Drake non indossi i colori, non indossi il colore verde, ma sia tutto rosso e nero, quindi agli stivali neri, i guanti neri e la sua casacca sia completamente rossa, già nel fumetto era così come una sorta di omaggio al fatto che non voleva ricordare il vecchio Robin, proprio perché era morto in battaglia, di conseguenza ha tolto il colore verde e si è fatto chiamare Red Robin, proprio per non farsi chiamare più Robin. Solo dopo, probabilmente, quando hanno rinvenuto il personaggio di Red Hood, si sono accorti che c'erano due Robin con il Red davanti, però, vabbè, avrebbe avuto più senso a questo punto se Robin avesse tolto il colore rosso dalla sua divisa, però, chiaramente, col senno di poi. Sono piene alle fosse, ma non quella di Jason Todd. Ora, detto così, sembra che io abbia criticato aspramente le scelte grafiche di questo fumetto. In realtà, so che hanno voluto usare diverse incarnazioni dei personaggi proprio per accontentare tutti i fan a seconda di quale sia stata la loro serie animata preferita. ed è anche un bellissimo gioco andare a pescare un po' tutte le varie incarnazioni. Quindi, assolutamente, la mia non vuole essere una critica, è solo una cosa che mi ha un pochino spiazzato all'inizio, ma a cui poi ci si abitua facilmente. Quindi, questo è un numero consigliatissimo se siete fan della serie animata. Se non siete fan della serie animata, cercate di diventarlo. So che la serie animata è introvabile, soprattutto in lingua italiana. Io spero che qualche piattaforma, prima o poi, la faccia rivedere. Mi accontento anche di un canale 20 del Digitale Terrestre. Mi piacerebbe tanto che si possa fruire di nuovo tutti insieme, perché davvero merita, merita tantissimo. Gli autori di questa serie animata, se non sbaglio, sono anche autori di alcuni tra i migliori episodi di Real Ghostbusters. Sono anche autori di un paio di run molto interessanti di Spider-Man, del fumetto di Spider-Man. Non so se hanno anche contribuito ai videogiochi Arkham o sono solo citati. Per esempio, Paul Dini appare il suo nome nella Dinner in cui comincia la fuga di gas di Arkham Knight. Io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine e come sempre, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.